Alla presenza, Marco Soranzo alla mia sinistra, che è il dialogo ma soprattutto responsabile dell'Ufficio Feminismo e Dialogo Interreligioso della Cidiocesi di Udine, e con alla mia destra Mohamed Hassani, che è portavoce del Centro Islamico Misericordia e Solidarietà di Udine in via Marano Marunare, Misericordia e Solidarietà di Udine in via Marano Marunare, lo diciamo anche una nota così, un dettaglio, è il più grande della città, ce ne sono tre come sapete, la loro presenza qui ha un significato, è un messaggio, è un messaggio, perché sono qui, perché se il libro parla di come si può nel 2000, nel terzo millennio, nel ventimesimo secolo uccidere il nome di Dio, noi oggi cercheremo di parlare invece di come si può costruire la pace in nome di Dio, di come si può costruire una confidenza sostenibile nel nome dei valori che ci accomunano indipendentemente dalle fedi che ciascuno professiamo e di come in questa città appunto sia possibile costruire questo cammino. Allora, io cedo immediatamente la parola a Marco, a cui ho dato il conto di leggere il libro e sentiamo che cosa ne ha ricavato. Stroncato, grazie, da Marco a Marco. Devo dire che è un libro che sorprende, un libro che sorprende perché è una raccolta antologica di articoli in quattro anni e prendendole in mano uno si chiede ma sono successe tutte queste cose in questo tempo? Perché ormai non siamo più abituati ad immagazzinare le notizie e le esperienze ma le consumiamo in brevissimo tempo, ce ne dimentichiamo infatti. Invece riprendendo il libro si ha idea di un quadro, di uno sviluppo in parte anche preoccupante che è avvenuto in questi anni e quindi è una raccolta, è la costruzione di un puzzle che ci dà un quadro di una situazione mondiale di cui noi siamo una piccolissima parte come Europa, come Italia e come Udine. Però comunque anche in questa piccola parte anche Udine ha avuto un suo ruolo e a sua volta può essere la prima tessera della costruzione di un altro puzzle. Quindi è un libro che ritengo sia utile da leggere, da sfogliare perché vengono presi in esame una serie di argomenti, di argomenti quadro che danno un quadro proprio preciso di alcune cose e quindi l'insieme di tanti piccoli particolari costruiscono un quadro di insieme interessante. Quindi l'invito è a prenderlo e a leggerlo e magari anche a proseguire il lavoro nei prossimi anni raccogliendo tutte le cose che da qui in poi avverranno perché l'ultimo articolo mi sembra sia del settembre del 2018. Quindi lo spazio di costruire ancora delle esperienze. C'è un capitolo che mi ha stupito, che ho detto ma non è poi tanto interessante dal mio punto di vista, che era quello dei rapporti con la Corea del Nord, la guerra tra Trump e che non sono più. Dopodiché poi uno pensa, dice ma in Corea del Nord c'è la più alta repressione nei confronti dei cristiani. Sono 50.000 cristiani detenuti nei campi di lavoro e mi chiedo a volte quando i nostri ambasciatori politici vanno a parlare del regime se c'è questa attenzione di questa grande repressione fatta per la fede. Che siano cristiani, che siano islamici, che siano buddisti, un regime opprime le persone per la fede da dove portano un messaggio di libertà e di ugualienza. E anche questa è una repressione assolutamente sconosciuta e nascosta. E il libro non mette ansia? Il libro mette ansia? No, no, il libro non mette ansia perché nelle lingue ci sono spunti negativi ma anche spunti positivi. C'è un'evoluzione, ci sono anche delle cose che danno speranza. Quindi una situazione complessa tra una situazione in divenire che apre anche alla speranza, assolutamente. Bisogna sempre la leggere anche alla speranza. Magari dai piccoli segni. Perché un piccolo segno può aprire una grande speranza. Ok, grazie. Grazie Marco. Adesso passiamo alla parola. Siamo tutti. Siamo lieto di essere fra di voi oggi, nei concittadini. Questa nostra La storia è un insieme di fatti di cronaca, la storia è un emiantato che un rivoluzione di fatti di cronaca che in un quadro generale descrivono questo quadro che si chiama storia. È fatta di esperienze, come diceva padre Marco, positive, negative e di opportunità. Come riuscire a vedere nella storia, a cogliere nella storia, a cogliere una possibilità vicina per orientarla. Possiamo orientarla? Sì, lo possiamo. La storia prima è fatta di cronaca, ma è cronaca e l'attualità è fatta da uomini e donne. Quindi farla è prodotta da noi. Quindi noi possiamo cambiare la storia, possiamo cambiare l'agento nel modo giusto, con i mezzi giusti e nei tempi giusti. Non dico altro, mi scelgo. D'acca! Parliamo di uno degli episodi dell'offensiva terroristica dello Stato dinamico nel mondo, nel caso vivo si intitola la terza guerra mondiale a pezzi, che come sapete non è un'escrizione mia, ma di Papa Francesco che lo prendo volentieri, perché d'acca? D'acca ci vede più volte del cinema come frulani, perché sono morti due imprenditori frulani, che è una d'acca, un paese tendenzialmente tranquillo, il Bangladesh, per lavorare e per portare il lavoro, sia in quel paese, sia in più. Abbiamo tentato anche avuto 29 morti, mi sembra, di cui 9 italiani, imprenditori, che cenavano in un posto dove non c'erano stati precedentemente episodi tali da suscitare il problema e delle preoccupazioni. Sucidati in modo atroce, da persone identificate, poi uccise e catturate, che appartenendo alle classi medio-alte del paese. Quindi uno stile legato a Alkeida, quindi sapete che Osama era una persona molto comportosa, una persona maureata, comparata, e anche queste persone avevano queste caratteristiche. Quindi un episodio di violenza e di intolleranza, che però non è solo, facendo una lettura un po' più approfondita, un attacco religioso, ma è un attacco economico. Quindi spaventare o impedire alle persone di sviluppare una loro libertà e una nuova. E' nella scia di altri attentati che ci sono stati, come quello al barbo a Tunisi, a Shah Rask, a lungo solo, ancora nei tempi passati, lo stesso attentato recente nello Sri Lanka, dove vengono colpiti degli obiettivi con una motivazione religiosa, ma che portano l'impoverimento di questo Stato da un punto di vista economico. E impoverire uno Stato vuol dire sottolineare i cittadini dello Stato. Quindi è un duplice attentato, esterno e interno. Quindi per me Dacca è un esempio abbastanza emblematico di questa strategia che cerca di fare tutto per impedire quelle che sono delle civili convivenze e uno sviluppo che favorisce tutti. Lo sviluppo porta la libertà. Ecco, la parola della libertà. Ecco, io a Mohamed vorrei chiedere di evocare un momento molto importante di questa città. Non lo dico solo perché ero presente. Lo dico perché Mohamed era tra i protagonisti della manifestazione che c'è stata, credo, il 15 novembre del 2015, due giorni dopo le stragi di Parigi, in Pataclano, vi ricorderete, il Stato de France, i locali dell'Agonida a Parigi. Un attentato eclatante, sofisticato nel cuore dell'Europa. Ecco, i musulmani udinesi, immediatamente così come avevano fatto addirittura nello stesso anno, nel gennaio del 2015, dopo l'attentrata di Charlie Hebdo, scesero in piazza, in piazza del 26 luglio, perché lì c'ero anch'io, in quell'occasione ci ritrovano tutti sotto la roggia del Lionello. Io ho filmato tutto, il video è su YouTube, potete vedere la manifestazione Parigi, Udine con Parigi, l'abbiamo titolato quel video, e Mohamed fece un discorso molto interessante, applaudissimo, il più applaudito di tutti perché hanno parlato amministratori parlamentari, il più applaudito di ciò è stato il suo e quello di una ragazza che frequenta il centro islamico, Misericordia e Solidarietà, e entrambi sottolineaste una cosa, noi, avete detto, siamo i vostri migliori alleati contro il terrorismo. Ci spiego questa affermazione. Noi siamo i vostri alleati contro il terrorismo. Noi, cosa intendiamo con noi, intanto, la struttura di questa fase? E perché siamo scesi in piazza? Forse questa è la domanda che può saltare a lungo. È un fatto abbastanza naturale. Quando un padre deve parlare Udine dell'appartenenza alla città, in quanto siamo una parte della città, siamo un padre integrante della città, viviamo lo stesso centro, respiriamo la stessa aria, quindi abbiamo le stesse preoccupazioni, gli stessi rischi e le stesse opportunità. un rischio che abbiamo alle nostre spalle, ovviamente, come può fare paura ad un mio vicino, farebbe paura anche a me. Siamo usciti da Udinesi, con tutti gli altri Udinesi, che Udine ha risposto in un modo molto positivo a questo accaduto, come in altre occasioni, altrettanto anche positivi, non solo in occasioni negative. ha risposto molto positivamente, trasformando quel momento di rabbia, di dolore, di tristezza, in un momento di forza. Forza nell'unione, forza in una città che vede tutti i suoi componenti, con le sue diversità, uniti, sotto un unico slogan, contro questi terroristi. I musulmani, la loro apparsa, ovviamente, non sarà inosservata, non passerà inosservata perché, nell'opinione pubblica, sono interessati, perché l'Islam c'entra, c'entra con i fatti. E qui, cito anche una parola di Papa Francesco, che ha parlato di questa strumentalizzazione. Io vedo due strumentalizzazioni dei fatti. La prima strumentalizzazione è quella della religione per scopri economici o politici, quello che è, come il discorso di Dacca. Il secondo, il più pericoloso e il più delicato, è strumentalizzare anche questo fatto per escludere una fetta della società che può contribuire, può essere un mattone principale del cambiamento, trattandosi, ovviamente, di una comunità che vive dentro la società. Siamo una comunità unica, dobbiamo avere questa consapevolezza e noi siamo fieri di essere musulmani, quanto siamo fieri di essere musulmani, non vediamo contraddizioni in tutto ciò. la nostra identità, questa è una nostra fede e questa è una nostra cittadinanza. E la nostra fede ci detta di essere utili a noi stessi e ai nostri vicini, senza esclusione di fede. Utili è un esempio perché tutti i momenti in cui noi abbiamo incontrato la cittadinanza in eventi promossi dall'associazione, dalla società civile in generale, in tutti i momenti in cui noi abbiamo promosso l'inità dottorale abbiamo trovato una città che risponde in modo molto positivo. Bisogna avere più convinzione, più fiducia nella costruzione di questa alternativa. E vedo in utile un modello che può riuscire molto bene, ci vuole solo più impegno. da parte nostra è in primis, ma da parte di tutti i componenti della società. Non sempre il dialogo è possibile. Ci sono delle circostanze in cui addirittura esco un signore. E io ne faccio un esempio concreto nel libro parlando della visita del nostro ex presidente della regione Debo Reseracchiavi in Irlanda, che fece scalpore perché, per il motivo sbagliato, sia perché lei si velò a Teheran e scopiò a Pugliferio. E' un classico esempio di realpolitik. Più che l'amore e il potere di soldi. Era l'oppersione di stringere i rapporti economici e per evitare contrasti la presidente Seracchiani si è messa al velo. C'era un precedente di sette, otto anni prima, quando era venuto qui, a un'altra camera, alla sozione industriale, che hanno anche lì fatto velare le statue e hanno escluso alcune persone che avrebbero potuto creare dei problemi e di natura politico-religiosa. E subito dopo, in incontro del presidente del Miran in Italia, dove hanno velato le statue. Ecco, c'è da chiedersi fino a che punto per il dialogo e l'apertura dobbiamo annunciare alla nostra cultura. È una domanda molto complessa perché ci sono degli interessi reali, c'è la necessità di essere in qualche modo accoglienti, però fino a che punto possiamo denunciare alla nostra identità? Nel libro tu dici che non dobbiamo denunciare alla nostra identità, sicuramente, però questo è più un problema. Cioè, si può dialogare con tutti? Forse no. Forse bisogna aspettare che il dialogo cresca anche da altre parti. Non sempre possiamo essere accondiscendenti per questioni puramente economiche e militari. Io penso ad altri episodi di questo tipo fatti dai nostri governi sul quale sul volo ricordo solamente India e Egitto, così avete un'idea di quello che ci è successo nel tempo. I contratti sono più importanti delle persone. Questo non è in linea con il messaggio di Papa Francesco di Alta Ghed dove dicono che la priorità è la persona quindi dell'economia. L'economia è al servizio della persona. Perché non c'è contraddizione, faccio questa provocazione, perché non c'è contraddizione tra l'essere musulmani e quindi aderire a una fede che ha la sua cunna in un posto molto lontano e essere indirici. Sono due cose, diciamo, opposte. Sono due cose che si completano. che si completano. Noi, nella nostra fede, il credo è un credo in Dio, nei suoi profeti e questo rapporto verticale con Dio ha una sola caratteristica. Nella nostra fede è un rapporto orizzontale con me. Tutto ciò che ci circonda, sia uomini o creato, è una cosa che non è statica, ma cambia, è varia, è un posto. Il profeta Pace su di lui stesso, profeta di Islam, immigrò da una città a un'altra, cambiò, aveva cambiato pure alcune sue abitudini in diversi aspetti. Quindi, l'Islam originale, quello a volte trasmesso anche da i bambini stessi che ignorano la loro religione, la vedono come una cosa statica, riferendosi a posti oppure a costumi diciamo artisti. Ma l'Islam nel rapporto meditale è un rapporto con Dio e nella collettività. Quello orizzontale bisogna essere utili, bisogna adattare con incollenza tutto il creato di Dio, bisogna essere attivi, bisogna essere utili al creato di Dio. Dio noi abbiamo un detto con la tradizione profetica e il profeta Pace su cui dice il più amato da Dio è colui che è più utile ai suoi figli. I suoi figli necessitano tutto il creato del Dio. noi non consideriamo i non-musulmani i nostri rivali. Siamo tutti fratelli. Come dicevo a padre Marco prima, ci saranno altri nostri fratelli che vi dà una festa che organizzeremo la prossima settimana. Tutti fratelli e poi rivolgerono in vita tutti voi. Siamo tutti i fratelli del Coranico ne parla per primo dice che ogni essere umano ha la sua dignità. Cioè adesso possiamo anche sentire che alcuni musulmani hanno questa concezione che il non-musulmano è inferiore o non-esegevole. È una concezione sbagliantissima ma non ha nessun fondamento. L'unica cosa che c'è è la fratellanza. E quando si ha questa concezione che siamo tutti figli di Dio siamo tutti figli di Adamo siamo tutti figli di Adamo creato viviamo questo creato di Dio siamo tutti fratelli. Quindi quando si ha queste concezioni non ci sono più tradizioni perché ovunque sei tu puoi adorare Dio e puoi trattare e puoi trattare l'indicere puoi vivere in mezzo alla collettività con amore con fratellanza con pace con tutti i principi che Dio ordina ecco Marco quest'anno il Papa Francesco ci sorprende sempre però quest'anno davvero la sorpresa è stata grande perché la visita che ha fatto negli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi con tanto di celebrazione di messa per la piccola ristretta comunità di cristiani del paese è sicuramente un passaggio storico anche perché in quell'occasione è stato firmato un documento è stata firmata una dichiarazione e che traccia la via segna la via ce la vuole illustrare Marco diciamo che è frutto di un percorso che viene da lontano nel 1965 interno del concilio Vaticano II c'è un documento che si chiama Nostra Etate in cui di fatto viene sottogganato tutti quelli che erano gli antenni i mobili confronti dell'Islam dell'ebraismo dell'Islam e delle altre comuni questo è stato un documento estremamente aperto poi ci sono stati periodi di luce e di ombre come capita sempre legati anche agli eventi storici politici ed economici e Papa Francesco ha rilanciato il dialogo interreligioso per il Papa è fondamentale che le fedi si parlano e le fedi si riconoscono quindi c'è stato un crescendo nel 2014 nel conto di Giardini Vaticano con Pera e la stella bassa con quel momento di preghiera interreligiosa dell'eterno religione del lingo dove tutti hanno cantato le nuove del creato hanno riconosciuto le loro colpe e i loro peccati e hanno pregato e lo spiegato per la pace poi nel 2016 Alta Yed dell'Università di Al-Azara ha fatto una visita del Papa del Vaticano nel 2017 il Papa è cantato in agito sempre nella Mosca di Al-Azara all'Università e ha parlato nel 2019 è uscito il documento quindi vediamo un dialogo che è crescito velocemente considerando i tempi della storia è crescito velocemente perché tutte le coparanti sentivano la necessità di stringere i rapporti e di trovare una via per uscire da queste situazioni di timore indifferenza terrorismo ma anche soprattutto di debiato sociale e debiato morale il documento che invito a tutti a leggere perché sono poche sono poche pagine estremamente dense di interesse la potete scaricare da internet oppure comprare la forma cartacea che vi consiglio perché potete leggere e sottolineare e documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune io leggo solo la prima cosa in nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti nei doveri e nella divinità e le ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro del popolare e la terra e difendere in essi i valori del bene della carità e della pace questa è la motivazione quindi questo documento nasce nel nome di Dio quindi il fatto che venga riconosciuto da entrambi diciamo i settori di questo documento il nome di Dio come punto centrale di riferimento è un altro estremamente importante poi il documento è ricco perché parla di inocenza umana dei poveri dei misi degli orfani dei popoli della libertà e della dignità delle persone della giustizia ecco quindi sono tanti temi che vengono trattati dello sviluppo del mondo del superamento della miseria perché superare la miseria intorno al discorso di D'Arca che ho scelto quell'episodio superare la miseria dalle libertà e di vita all'uomo che tutte le fedi devono riconoscere che la libertà e la vita dell'uomo sono fondamentali e poi si parla delle donne si parla degli orfani degli bambini degli anziani degli disabili cioè è estremamente ricco e dopo della libertà religiosa e dice la protezione dei luoghi di culto templi chiese moschee quindi tutti i luoghi di culto nel rispetto è un dovere da essere garantito e dopo c'è un invito e quello che cogliono tutti nella parte finale del documento che dice alla Zara e la Chiesa Cattolica domandano che questo documento diventa oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole nell'università e negli istituti di educazione e di formazione al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendono comunque il diritto degli oppressi e degli utili mi sembra una dichiarazione estremamente forte e un impegno estremamente forte io vi procedere anche le istituzioni scolastiche e le università nei loro ruoli esaminassero questo documento perché comunque viene tracciata una road map una strada da percorrere delle linee generali da seguire e impegna tutta la società anche la società non credente volevo chiedere a Manuel che impressione mi fa vedere la Suprema la massima autorità della Chiesa Cattolica firmare il documento con l'imam di Al-Azhar e quindi aprire la nostra azione può essere su due livelli c'è un quadro globale e c'è un quadro locale questi due quadri si completano il quadro globale non è altro che la conseguenza oppure il risultato di antiunità locale ma a postenso anche il quadro globale può influenzare le scelte a livello locale quindi a livello globale questo documento non sarà solo un fatto simbolico ma sicuramente sarà un incentivo un patrimonio per il dialogo interreligioso a livello locale bisogna restaurare questo rapporto come è stato anche realizzato inizialmente a livello globale bisogna creare questo dialogo come sottolineavo prima l'alleanza nella riflessione si prende un'alleanza non è solo non è solo avere le stesse obiettive ma avere anche un'azione un'azione comune e questa un'azione a livello globale ma le pro-locali dobbiamo avere un'azione fatta di un progetto che può tornare utile alla nostra città utile sia in termini culturali ovvero arricchire il quadro di documenti di ricerche di dibattiti che che illuminano l'opinione pubblica ma anche a livello a livello educativo e formativo soprattutto per le generazioni a venire parliamo parliamo delle scuole parliamo si può far tutto bisogna bisogna avere un progetto comunque arrivare a questo risultato ci vuole il dialogo tempo e soprattutto una strategia chiara in cui non bisogna sapere nessuno la comunità musulmana deve dare il suo contenuto l'autorità tutto l'ambiente che è il fiasco deve dire le autorità i mass media e ovviamente cioè tutta la società ci vediamo tutto questo il nostro giallo allora l'ultimo spunto Marco le emergenze le tragedie le disgrazie le catastrofi sono anche occasioni di discossa di ricostruzione e in questa ricostruzione forse si può evitare di ripetere gli errori che si erano fatti nella fase precedente quindi noi siamo qui a parlare di un libro che racconta ripeto una stagione funesta tragica quella degli attentati dello Stato Islamico in Europa ma forse proprio questa emergenza questa offensiva ci dà la forza per fare ben altro e quindi torniamo a Udine la vostra presenza qui in Marco è un messaggio è un messaggio importante per questa città ce la vuoi decodificare sul piano più personale possibile diciamo che il dialogo interreligioso quindi aperto alle religioni del libro e anche alle altre religioni è sempre un'opportunità di crescita anche perché il confronto tra le esperienze tra est e ovest tra nord e sud sicuramente sono esperienze che arricchiscono tutte le parti che vi partecipano a volte è anche difficile è difficile perché è difficile trovare anche l'interlocutore ci sono mi sembra sette centri islamici in diocese più o meno non c'è un referente unico con cui poter aprire un discorso per cui il discorso può essere aperto con le singole comunità diventa difficile è faticoso ammesso che tutti siano interessati ad aprire il confronto perché non si può dare nulla per scontato certo che laddove ci possono essere dei riferimenti di interesse se ne può parlare ci si può incontrare io devo dire che da parte nostra a livello di commissioni di diocesi abbiamo celebrato negli scorsi anni e faremo anche quest'anno la giornata del dialogo tra cattolici e decennari che è nata nel 2011 questa è la diciotesima edizione subito dopo l'attentato del lettore di gemelle questa giornata che è chissata per il 27 di ottobre ecco quest'anno riproporremo questa giornata in una data più o meno vicina compatibile a l'esmodinità delle persone dove affronteremo proprio questo documento tra un esponente della chiesa cattolica e un esponente del lungo e questo è un passo sarà un incontro aperto a tutti chiaramente è un primo confronto nel merito dove ciascuna persona dirà ciò che ha accolto questo documento che comunque diciamo apre in assoluto una possibilità reale di dialogo su cose anche concrete non solo di confronto cioè le cose concrete vuol dire anche scelgere con i temi comuni su cui operare e dico questo perché la chiesa comunque è sempre stata aperta a questo tipo di esperienza pensiamo ai providori umanitari al fatto che ci siano in Vaticano persone che sono del mondo siriano sono raccolti dal Papa di Talampo arrivati con la comunità di Santo Egilio dove non viene chiesto nulla nessuno di che religione sia o il fatto che la Caritas compresa la Caritas svinese segue centinaia di persone che appartengono al mondo islamico ecco questi sono già dei segnali di presenza attiva certo che si può fare di più ecco questo sicuramente sì l'importante è trovare le due parti che siano disposte a fare un certo percorso individuando anche dei temi perché parlare è facile operare diventa molto più difficile la novità di questo documento che è un documento non sono solo delle visite di cortesia o dei discorsi fatti più o meno appariscenti o enti di contenuti di amore ma è un documento quindi c'è una strada che è stata tracciata e finisco leggendo le ultime parti della dichiarazione ecco dice questo questa dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza fra tutti i credenti sia un appello ad ogni coscienza viva che repudia la violenza berrante e l'estremismo cieco sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio sia un simbolo dell'abbraccio tra oriente e occidente tra nord e sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creato per conoscerci per cooperare con noi per vivere come fratelli che siamo credo che parole più belle di queste non potessero essere scritte e quello che è importante sono parole condivise e su questo possiamo incontrarci in casa di Dio Moamed allora sentito quello che ha detto Marco la disponibilità alla parte della Dioce c'è l'intenzione e la tua presenza qui credo testimoni che ci sia anche la parte vostra una disponibilità a fare questo cammino non è vero? Certo questa disponibilità non è una persona oggi ma il percorso di dialogo sia con la Chiesa sia con tutti i componenti della società civile è un percorso già avviato per la realtà che rappresento si può far sempre di più ovviamente la disponibilità nostra non è un non deve essere le mie affermazioni ma è un dato di fatto noi come dicevo prima in qualsiasi evento in qualsiasi in qualsiasi occasione in cui che diciamo in qualsiasi occasione del quadro culturale udinesi noi siamo sempre presenti vogliamo ascoltare vogliamo conoscere le insegne di la nostra città vogliamo interagire con la nostra città almeno con la conoscenza la conoscenza dei nostri problemi delle nostre preoccupazioni abbiamo partecipato anche degli eventi di quartiere più di uno e abbiamo anche proposto diverse occasioni in cui possiamo incontrarci una di queste occasioni per esempio è l'occasione a cui ho invitato ho invitato già in precedenza Marco e padre Marco Riotti ovvero la cena multiculturale che organizziamo in concomitanza con in occasione della Madonna noi stiamo in mese del Diggio siamo al dodicesimo giorno siamo al dodicesimo fino al cammino non c'erano del sole non c'erano non c'erano sì come forse magari allora allora questo evento ha l'insegna dell'amore dell'abbas del dialogo della convivenza la data sarà 25 l'au a 100 l'orario alle ore 20 20 00 e siete tutti invitati però i posti sono limitati quindi vi chiedo la cortesia tutti i presenti qua che ha interesse mi lo comunichi così di almeno segno il suo nome ok quindi questo è un piccolo esempio il percorso è ancora lungo ho parlato anche con padre Marco in altre occasioni di un dialogo diciamo bilaterale dove si può parlare di cosa si può fare insieme della strada del cammino che dobbiamo percorrere tutti insieme noi siamo disponibilissimi con tutti i mezzi che possiediamo sia idee sia qualsiasi tipo di risorse il quale quello quello è il motone quello è il motone ti vedo qua